Musica Bene, eccoci insieme anche oggi. E' davvero un onore poter ospitare Furio Bragagnolo, che è il presidente del pastificio Zara. Perché dico che è un onore? Non solo per le capacità imprenditoriali sue e dell'azienda, ma anche perché al pastificio Zara va dato un merito ed è stato quello di sondare ed essersi affermati sui mercati esteri in tempi non sospetti. Parliamo di metà degli anni Sessanta. Oggi il pastificio Zara è un caso di eccellenza a livello mondiale ed è uno di quei casi che magari è più conosciuto fuori confine di quanto nel nostro paese. Tant'è che loro commercializzano in 101 paesi nel mondo e il 92% del vostro fatturato va verso l'estero, anche se insomma adesso avete intenzione anche di sondare meglio, di radicarvi meglio sul mercato nazionale. Qualche dato, tre stabilimenti, Casa Madre a Riese più decimo in provincia di Treviso, uno stabilimento a Muggia in provincia di Trieste e uno a Rovato in provincia di Brescia, circa 400 dipendenti, 213 milioni di fatturato nel 2012 con una crescita del 16%. C'è un dato di cronaca che vi caratterizza oggi ma soprattutto vi caratterizzerà il 26 di maggio perché per la prima volta, almeno così sembra, una tappa del Giro d'Italia, nel caso proprio l'ultima tappa del Giro d'Italia, partirà da una struttura produttiva, partirà dal vostro stabilimento di Riese più decimo. Viene da chiedere, è più un'operazione commerciale o di pubblica relazione? È una grande operazione questa. Intanto sì, concordo anch'io, è una grande operazione, è una grande operazione per il territorio dove noi esistiamo, Riese più decimo, che con l'amministrazione comunale abbiamo un buonissimo rapporto. È un'operazione stata fatta perché il Giro d'Italia... Ma poi dici, è un'operazione di marketing aziendale? Sì, è un'operazione di marketing aziendale e di marketing comunale perché anche il comune ne beneficia di questo. Dunque è un rapporto che abbiamo con l'amministrazione comunale, con Pastazzara e anche con gli altri imprenditori del territorio perché noi siamo il main sponsor della corsa, ma ci sono anche altri imprenditori che hanno aiutato a farsi questo. Perché il Giro d'Italia? Il Giro d'Italia è la corsa ciclistica più importante che si fa in Italia, è la corsa ciclistica più vista al mondo che c'è in Italia. Noi esportiamo il 92% dei nostri prodotti, dunque abbinare Pastazzara col Giro d'Italia, con l'ultima tappa, perché l'ultima tappa che parte dall'interno dello stabilimento, come diceva bene lei, è una, o la prima volta, o una delle poche volte, una delle prime volte che un Giro d'Italia parte da un pastificio, parte da un'unità produttiva. E questa è la novità. Dunque, RCS, amministrazione, Pastazzara, ha fatto sì di fare questa grossa operazione di marketing, marketing italiano per il mondo. Farete una sorta di pasta party come si fa nel maratone? Sì, questo è logico, perché gli sportivi devono mangiare la pasta, ma soprattutto più che un pasta party, una volta che parte il Giro d'Italia, che parte la carovana dell'ultima tappa, vogliamo aprire le porte del pastificio, in modo che tutte le persone che rimangono o chi vuole venire può visitare tutta la tecnologia che c'è dietro, un piatto di pasta, perché tante volte noi siamo abituati a mangiare la pasta, senza pensare alla tecnologia che c'è dietro, cioè far vedere come viene prodotta la pasta e alla fine di questo tour ci sarà un pasta party. Questo tour è organizzato, lo vorremmo organizzare in vari gruppetti, e il nostro personale, cioè i capi reparto, i capi turno, le persone di Pasta Zara faranno un po' la guida turistica spiegando il loro lavoro quotidiano, in modo per affiattare il nostro mondo con il mondo di chi vuole venire a visitarsi e capire che chi lavora in Pasta Zara fa squadra, che è uno di noi, che anche loro saranno coinvolti nelle manifestazioni importanti che facciamo noi. Lei in qualche maniera mi ha già risposto, ma che rapporto mantenete con il territorio, voi che avete una dimensione planetaria? Guardi, quel territorio è fondamentale tenerlo, è vero che noi esportiamo dagli ultimi dati, lei ha detto 101, perché nell'ultimo mese siamo in 104 stati, però è importantissimo. Ne ho persi tre. Ne ho persi tre, non importa, meglio per noi, perché chissà che la prossima volta siano 106 e 107. Comunque è molto importante avere le radici nel territorio. L'esempio che ho fatto anche in occasione della presentazione del Giro d'Italia è stato quello, come un albero. Un albero, se ha delle radici profonde, continua a svilupparsi. Se li tagliamo le radici, per quanto bello è, ma è un tronco e non continua e non può più svilupparsi. Dunque mantenere un stretto legame col territorio è importante per poter crescere. Come un albero che continua a crescere, continua a espandersi, lo stesso noi mantenendo le radici sul nostro territorio possiamo continuare a crescere, perché la territorietà è importante. È importante dare sviluppo al territorio, comunicare col territorio e lavorare per il territorio, anche se il 92% dei nostri prodotti è destinato all'esportazione. Abbiamo intitolato questa puntata l'Italia nel mondo, perché sicuramente la pasta è uno degli emblemi massimi del nostro paese. Voi avete anche una storia bella. Voi nascete nel 1898 e quello che sicuramente credo pochi sappiano è che vi chiamate Pasta Zara perché c'è stato un periodo che oltre allo stabilimento originario a Castelfranco Veneto, quando ancora vi chiamavate Pastificio Bragagnolo, avevate aperto un secondo stabilimento a Zara. Dopodiché la guerra ha fatto sì che lo stabilimento venne distrutto, avete in qualche maniera perso l'investimento, siete dovuti tornare nel nostro paese e poi a metà degli anni Sessanta, se ben ricordo, avete deciso di cambiare il nome dell'azienda in ricordo di quella esperienza. È tutto corretto? È tutto corretto. E infatti è vero, Pasta Zara nasce nel 1898, tra la prima e la seconda guerra mondiale mio nonno aveva preso la decisione perché già forse nel nostro DNA c'era un qualcosa che ci portava fuori dai confini nazionali perché vedeva uno pastificio nella città di Zara, che allora era italiana, che era Dalmazia Veneta, che era Dalmazia Veneta, allora poteva essere un buon punto di riferimento per l'esportazione in tutta quell'area. C'è stata la seconda guerra mondiale, la seconda guerra mondiale l'Italia è stata sconfitta, adesso potrebbe bisogna vedere perché abbiamo perso parte di quel territorio, perdendo parte di quel territorio e il pastificio è stato confiscato dall'allora governo di Tito. Il ricordo di questo negli anni Sessanta e Sessanta e Sessanta un po' coincide quando Pasta Zara ha aperto lo stabilimento a Riesi Pio Decimo perché circa 50 anni fa, 50 anni fa c'è stato il nostro insediamento a Riesi Pio Decimo. Comunque in quegli anni in ricordo del pastificio che avevamo in Dalmazia Veneta nella città di Zara mio padre e i suoi cugini hanno deciso di cambiare il nome da pastificio Bragagnolo a Pasta Zara che questo ci ha anche agevolato nelle esportazioni perché logicamente chiamare Bragagnolo non è facile per uno straniero invece Pasta Zara era molto più diretto molto più facile nel ricordare cioè ha aiutato la decisione di mettere il nome Pasta Zara ha anche aiutato nella facilità di porsi con il mondo estero che adesso noi stiamo lavorando moltissimo. Ecco, voi avete una gamma di referenze per quanto riguarda la pasta ampia qual è la pasta più amata nel mondo? Gli spaghetti? Sì, diciamo i formati sono i formati classici gli spaghetti le penne le spirali anche se ultimamente un po' dappertutto vengono richieste le specialità sta cambiando il modo di consumare la pasta non solo in Italia ma anche all'estero una volta all'estero c'erano 4-5 formati che si vendevano anni addietro il ventaglio di prodotti si è allargato utilizzando anche i formati un po' più italiani adesso vediamo che all'estero riusciamo a vendere anche i pack napoletani riusciamo a vendere le spirali quelle grandi vediamo a vendere i refri cioè anche prodotti che una volta non sarebbero mai stati venduti sta cambiando un po' l'alimentazione mi stimola una curiosità ma il nome della pasta all'estero riusciamo a imporre il nome italiano cioè spaghetti lo conosco in tutto il mondo ma paccheri o rigatoni o spirali li chiamano così anche all'estero sì e no perché allora esempio in Franza la conchiglietta la chiamano sì la chiamano con loro nome il maccherone lo chiamano maccheroni diciamo che molto simile molto simile diciamo che siamo riusciti a mantenere ma nel vostro packaging resta il nome originario o non lo traducete il nome italiano noi non lo traduciamo noi abbiamo preso la decisione noi abbiamo come diceva lei giustamente prima tre stabilimenti tutti i tre stabilimenti in Italia abbiamo sempre creduto nel Made in Italy perché questa è una cosa fondamentale che bisogna anche dire noi siamo una delle aziende che poteva benissimo investire costruire fuori dai confini nazionali invece abbiamo voluto insistere sul territorio italiano mi collego a questo perché ho ancora un minuto ma una cosa mi pare importante segnalare è il vostro progetto Green Zara quando lei parla del Made in Italy perché ovviamente il grano migliore è quello che arriva dal sud Italia e voi siete i primi credo ad avere in qualche modo attivato un vero e proprio treno che va su e giù per l'Italia esatto ovviamente abbattendo notevolmente l'inquinamento lungo le strade esatto noi come fornitura di grano abbiamo fornitura di semola abbiamo un mulino in conto a lavorazione nelle Marche che copre circa un 30% una buonissima collaborazione con grandi mulini italiani e con Casillo a Bari per trasportare la semola dal sud Italia al nord Italia nello stabilimento di Mugia avevamo iniziato a pensare di portare dal trasporto stradale in qualche altro modo abbiamo fatto un accordo con le ferrovie dello Stato tramite una società Alpe Adria di ogni settimana trasportare 32 casse di semola dal sud a nord il treno del grano il treno della semola il treno del grano e questo logicamente ha un impatto ambientale inferiore perché trasportare via rotaia c'è un inquinamento inferiore anche se inizialmente questo costava di più perché inizialmente il trasporto via ferrovia a noi costava di più che il trasporto stradale però siamo andati avanti su questa strada ottimizzando i costi perché un industriale deve anche cercare di ottimizzare al massimo i costi siamo riusciti a ottimizzare i costi se oggi abbiamo un risparmio di quello che costa lo stradale grazie tutto certificato anche da Legambiente tutto certificato da Legambiente grazie a Furio Bragagnolo che è il presidente della Pasta Zara ricordo allora l'appuntamento è il 26 di maggio con la partenza per la prima volta o quasi della gara ciclistica dell'ultima tappa del Giro d'Italia dal loro stabilimento di Riese Pio Decimo in provincia di Treviso grazie per averci seguito e noi ci vediamo naturalmente alla prossima grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti